ragazzi eccoci qua allora purtroppo video della pescata non si riuscito a farlo perché la batteria era scarica sono andato poi a casa una volta rientrato cambiato la batteria e ho registrato questo video quindi mi dispiace ma arriverà sicuramente il video di come pesco io le spigole praticamente consiste nell'ancorarci con motorini elettrici o con l'ancora vecchia maniera vicino alle dighe del porto o anche come oggi fuori dalle foci dei fiumi si cadono giù due canne io oggi ho usato la canna colmich araton pro sono trovato divinamente bene tra l'altro è molto sensibile perché è una canna data anche al bollentino a life drifting tutte queste tecniche qua eccola questa è la canna che ho adoperato adesso vi faccio vedere i risultati una spigola questa sarà all'incirca sul credo 2 kg e qualcosa è un'altra spigola mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale youtube seguitemi su instagram per venire a pescare con me www pescaliguria.it adesso faccio veloce perché si è messo a piovere giusto giusto in tempo scappo ragazzi vi aspetto ciao